Buongiorno amiche mie, ebbene sì eccomi qui, oh ci stiamo spaccando il secondo, cosa è successo oggi Kate? Cosa è successo? Che siamo puntualissime ore 14 come vi ho avvisato nel tasto comunicazioni, che dite ragazze? Sì 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 sì, guardate guardate, oggi spacchiamo sì sì, vai vai Kate, vai vai vai, finalmente è arrivato l'abito tanto atteso, io so già, so già, so già, so già chi di voi me lo chiederà un abito a portafoglio, bellissimo, meraviglioso, che si apre, rimane chiuso tranquillamente, anche se dovessimo sederci, li resta, magari poi vi faccio le prove da seduta Maglina, sì, la maglina dei nostri, dei nostri top a incrocio, non svegliamo niente, fine settimana arriverà qualcosa di diverso ancora, morì, allora innanzitutto grazie, 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 grazie Nel momento un po' così divento molto profonda, quindi ho scritto quel post e voi avete fatto breccia ancora di più nel mio cuore, se per caso ce ne fosse bisogno, ma non ce n'è bisogno perché siete dolcissime e questa nostra grande famiglia, come ci siamo dette, è tanta roba e quindi ce la teniamo tutta per noi cosa dite, lasciamo magari aperta una porta, una finestra, che cosa, una porta finestra per le nostre amiche che arrivano nuove, a vedere la qui presente, che ci troviamo dove, Kate? A Villa Carcina, provincia di Brescia ma avete visto la Simo quanto era bella l'altro giorno, francamente, guardate, taglie morbide fino alla 54 comincia a piacersi un po' di più perché sta un pochino calandosi, ma io con quel completo bianco mi è piaciuta tantissimo, tra le altre cose anche lei più energica, più io faccio bene ad assentarmi un giorno quindi anche lei più sul pezzo e anche questo è un ringraziamento per il sostegno che le date sempre siete le zie, siete le sorelle per me, siete le cuginette siete le nonne, siete, di là c'è un mondo, un mondo nella nostra grande famiglia sì, io tanto parlo perché così voi guardate, guardate cosa, che ho anche una manica più lunga e una più corta sì, perché voglio farvi vedere questo abito, che se lo gestite con l'arricciatura, vedete, più arricciata sulla manica con questa culisse fatta il fiocco, tenete anche se volete una mezza manichina se la lasciate sciolta, vi portate ad essere una manica tre quarti questo era l'abito che non stava per essere prodotto ma quando l'ho visto, anche in questa fantasia, ho detto lo voglio e vi posso garantire che il nostro Made in Brescia ha detto bene e così sia quindi ragazze, adesso datemi manforte perché questo abito bevo e piacervi come è piaciuto a me, l'ho fatto produrre proprio io ho detto portami un campione di un abito ah sì, l'avevo fatto, ma così, con l'acqua, su, con giù no, va fatto la nostra Antonellina può confermarvelo lì e quando gli ho detto con questo spacchiamo ci sono anche due tinte unite che vado a svelarvi dopo, dimmi Cate Cinzia, buongiorno, sono nuova ma buongiorno Cinzia, vedi che allora ho fatto bene a lasciare aperta una porta, una finestra spero che tu non abbia scavalcato come ho dovuto fare io domenica al battesimo di Batilde non vi dico dove sono andata ma non riuscivo più a aprire la porta sono dovuto uscire dalla finestra cioè queste cose mi, cioè capitano solo a me, no? ecco, fortuna che c'era la finestra Cate, anche questo l'ho fatto va bene quindi, dicevi il nome Silvia? scorro su sì allora Cinzia Cinzia, scusami benvenuta e adesso se hai voglia io mostro un po' di capi sullo stand se è nuova hai già avuto modo di vedere qualcosa di noi bene, sappi che io faccio questo lavoro da solo 37 anni a questa parte di conseguenza mi espongo anche in prima persona i nostri capi sono tutti quasi produzione made in Brescia nemmeno made in Italy e avere tra le mani i capi che poi vengono così creati da un campione, buttato lì così per me è tanta roba questo mi piace tantissimo e fortuna che l'anno santo ha poi trovato il tessuto e la fantasia perché ci togliamo un po' dai soliti colori io vi faccio vedere poi lì sullo stand quante cose abbiamo da abbinare sopra a questo abito cosa dite? tengo ancora la manica su giù così la vedete cosa dite? Mattarella alla vostra Gabri siamo a Villa Caccina, provincia di Brescia ci trovate sulla pagina Gabriele Sabigliamento Donna di Facebook sul nostro canale YouTube Gabriele Sabigliamento Donna sul nostro sito dove trovate tutti i tasti e vi riportano a tutti i social che vi sto elencando adesso anche al nostro tasto comunicazioni che ogni tanto qualcuna di voi abbandona magari ha paura di essere disturbata ma no, io mando praticamente non potete nemmeno rispondere a questi chat su whatsapp vi scrivo che alla talora inizia la diretta se poi potete e gradite e volete seguirci bene diversamente ci guardate dove cate indifferita sempre su i social che vi ho menzionato ora ok mando le ciance questa bellissima borsa è in pelle invecchiata 69 euro ho visto ieri che eravate impreparate quando ho fatto il video Simona sulle borse quelle con i manici lunghe 89 euro ma è pelle quindi quando parliamo di borse a 49 euro sono o anche a 30 come questa che è incredibilmente bella e la possiamo anche portare qui guardate la meraviglia è un'ecopelle tutta traforata tagliata al laser ma voglio dire 30 euro questa addirittura non sembra un'ecopelle è meravigliosa e questi sono i colori con questo abito non c'è un colore col quale non possiamo fare un abbinamento il nero sta benissimo il bianco sta benissimo il senape sta benissimo il tifani sta benissimo vado a mostrarvi qualcosina di là cosa dite quindi se avete il tempo di seguirmi ci staremo un po' insieme un'oretta, 40 minuti quello che esce, esce dopodiché vi aspettiamo dove? su Whatsapp è da lì che potete chiedere info chiedere informazioni girare le foto mi raccomando quando iniziate tra virgolette così un acquisto portatelo al termine e poi così noi il giorno dopo vi possiamo massimo due giorni di sospensione Cate non di più si poi bisogna mettere appunto il problema magari sabato e domenica noi poi vi dedichiamo del tempo quindi vi appartiamo le cose che nel momento in cui le appartiamo secondo noi sono già vostre perché fino alla vostra conferma conferma avvenuta ok i capi sono vostri e li spediamo quando si concluda il tutto manca le prix? esatto potreste dirlo voi è il prezzo di quest'abito considerate che le nostre maglie in unito costano 69 euro quanto può costare questo abito con questa lavorazione con questo arriccio che io gradisco guardate come sta morbido qua l'incrocio potete usarlo più doppiato più sdoppiato come piace a me perché a me piace il decoltè più aperto 79 euro e oggi più che mai ho voglia di femminilità ditemi se questo abito non sprigiona femminilità lo dobbiamo essere amiche mie abbiamo la fortuna di essere nate donne bene usiamo la nostra femminilità per tutto quello che ci fa star bene oggi spacchiamo cosa dite? Katia è giusto così? esatto devo dire ancora una cosa alle nostre amiche nuove che quando si tratta di questo cuoricino il tutto dalla taglia 40 alla taglia 54 questo abito ci sono anche due fantasia che scusate due tintonite che poi andiamo a svelare 79 euro ne vogliamo parlare dalla 40 alla 54 volete vederlo dietro? fatelo c'è qualcosa che non credite? impossible impossible è un abito che ci si può anche permettere di portare con una qualsiasi calciatura perché comunque è dinamico anche una ginica portiamo anche le gonne longhette no? con non so dei biker quindi possiamo portare anche l'abito che ci porterà che tra le altre cose è un tessuto fantastico freschissimo ci porterà da adesso a tutta la stagione poi io sfido il settembre ottobre questo abito spacca con un collan sotto portato con uno stivale e un cardiganone andiamo così avanti sono quei capi che non mettiamo mai via dall'armadio non facciamo mai il cambio stagione perché Gabri ha un su e giù perché con questo arriccio ve l'ho mostrato vedete se io lo arriccio 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 andiamo a fare un abitino poi qui ecco adesso magari non riesco a fare il fiocco perché l'ho fatto di qua si fa presto a slacciarlo quindi possiamo farlo vedere così lo tengo lo scendo cosa dici come preferisci si chiederanno magari perché una manica su una manica giù ogni tanto lo dico per far vedere che fate il vostro nodino lo arricciate avete una mezza manica che potete anche gestire ancora più corta come lo volete oppure portato così che a me piace tantissimo 79 euro dalla 40 alla 54 allora abbiamo Rossella che scrive buongiorno stai benissimo con questo abito Gabri buongiorno a tutte Giovanna buongiorno splendida e brava come sempre insieme ai tuoi collaboratori collaboratrici certo senza di loro come si fa Marisa buongiorno a tutti Marina buongiorno family bellissimo il taglio di quest'abito eh sì questo abito credo che non l'abbiamo mai avuto c'era uno similare con questa apertura questo arriccio è quello ragazza che dice conta tantissimo è una meraviglia perché non stringere dove deve stringere non mette in evidenza dove mette in evidenza poi arriveranno anche dei gilets georgette bianchi neri senza mani ecca a te ma dai non posso dire perché ti fanno diventare sì sì perché ci sono 20-30 modelli ancora che devono arrivare ragazze ma non si può dire né come né quando né perché cioè questo ve l'ho tenuto un attimino in sordina ve l'avevamo detto che arrivava perché tante di voi mi dite ma un abito corto ma un abito sinuoso ma un abito femminile che poi ragazze ve lo faccio vedere là lo tolgo dalla gruccia diventa una robina così eh questo abito lavare non stirare una cosa da imparare zac 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 cosa facciamo mandiamo lo stand e gli omini dopo gli omini prima lo stand bene ragazze seguitemi seguita la vostra gabrie che oggi è carica 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 oggi mi sento carica a molla facciamo vedere una 54 di questo abito che è qui sì poi ragazze sono mancata un giorno non è che sono andata chissà dove però vedo che quando non ci sono quando il gatto non c'è i topi ballano ma ballano nella maniera giusta cioè si sono date da fare la mia cata e la mia simona antonellina merci beaucoup per la tua presenza per il tuo sostegno ah non ho fatto vedere una cosa dietro la scollatura comunque questa è una taglia 54 vedete ragazze è qui eh non è non è magia è qui in carne e d'ossa bella adesso ve la faccio vedere indossata il modello è un attimino più larga è un attimino più profonda abbiamo detto si vedrebbe il reggiseno quindi è stato ridotto vero Kate? esatto è stato ridotto un pochettino e tutto fa tutto conta quindi anche le taglie 54 possono permettersi di portare questo io oggi indosso il nostro body nude sotto quindi con quello ragazze 43 euro ancora sempre lì fermo lì prezzo cioè abito 79 voi lo indossate sotto vedete che neanche vedete per dire il taglio quando vi sentite con una cosa così vi sentite bene uscita da casa testa alta e via 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 dove trovate questo è il taglio 40 che è anche uscita la 40 perché quando ho indossato il campione ho detto bisogna stringerlo quindi avrei portato altrimenti sarebbe stato troppo grande quindi questo è uscito perfettamente con questo vestiamo una taglia 40 perché ho chiesto di ridurre la taglia ok bellissimo dimmi Kate allora Giovanna scrive scesa è molto bella la manica dell'abito sì Vilma ciao Gabri lunedì sono venuta in negozio sempre fricci dei miei acquisti ma tu non ci sei mai un saluto a Kate e uno speciale a Doni che con me è sempre molto carina e paziente non so che Vilma sia sarà sicuramente la nostra Vilma la nostra Vilma la nostra Vilma non è che non ci sono mai non è che non ci sono mai faccio cose che vabbè in questo caso mi sono presa una giornata io ho fatto un po' di innalazioni ho fatto sì mi sono dedicata un giorno di tempo si può fare no? sì fatelo anche voi magari prendete due capi così veloci li mettete in una borsa e via tornate il giorno dopo rigenerate più più impanti che mai come me oggi tra le altre cose mi siete mancate un sacco dimmi Kate poi c'è Ersilia Ersilia scrive hai un fisico pazzesco ti sta benissimo tutto ma questo è stupendo allora lo so che è stupendo questo è l'abito che ci mancava ed è l'abito Antonella ascolta le nostre parole ed è l'abito che chiedo sempre di avere ok perché è semplice è pratico costa poco non ha bisogno di manutenzione ma è femminile è femminile punto non aggiungo altro ok vi mostro con cosa lo possiamo portare guardate qui io quando sono arrivata c'è ancora nuvoloso se così non fosse ragazzi è tutto sfoderato prendetevi questo articolo portatelo con voi anche se abitate in un posto sempre soleggiato questa primavera c'è sempre tantissima tantissima aria vi ripara da quello che è un qualcosa di fastidioso partite la marina presto tornate la sera c'è necessità di un capo così quindi ve l'ho già mostrato indosso una taglia a 40 ma vogliamo dirla tutta scusa amica a te ti faccio un mezzo busto eh si ma perché sono sono contenta di aver indosso questo abito mi sento bene questi sono i miei capi sono i miei capi io porto tutto ve lo devo dire dallo sbragato che indosso oggi con una t-shirt ah no ho messo le t-shirt qui dentro bisognerà che ci soffermeremo sulle t-shirt vabbè tanto siamo ancora un bel po' di tempo insieme quindi un giorno sì un giorno no più o meno tutti i giorni o no insomma vediamo voi poi vedete tutti i video in differita potete andare a vedere i video precedenti dalla 40 alla 50 alla 50 questo tifani vero? no alla 54 era il lilla che si fermava alla 50 e c'è possiamo mettere anche il lilla perché vedete che c'è questa fantasia con del viola che va a richiamare eh un po' tutto bene ma che dire di questo tren ci ha portato insieme lo potete stringere lo potete lasciare aperto potete fare quello che volete a tessuto tecnico sfoderato è una seconda pelle 129 euro 79 euro l'abito stavo dicendo che io amo questo tipo di scollatura e anche le maglie con l'incrocio spero che arrivino le canotte che proponiamo sempre tutti gli anni di sicuro non svegliamo niente arriverà allora abbiamo Carmen che scrive buongiorno ragazze ogni tanto riesco a vedervi ciao Carmencita a Dele è arrivato un bella gnocca si può dire sì di pranzo ci sta ti ho risposto anche ieri al messaggio carino che mi hai scritto poi abbiamo Monica che ha capito che deve fare spazio nell'armadio e ci lascia un abbraccio la Monica Monica la nostra Monica la nostra Monica patrimonio dall'UNESCO sì cara e non ho ancora visto gli altri due colori poi abbiamo Marisa che scrive Simona è stata bravissima la trovo molto più sciolta rispetto all'inizio brava a parte che vederla più spesso abbiamo la possibilità di vedere gli abiti nella nostra taglia grazie quindi Simona datti da fare io glielo chiedo sempre ma quando voi lo sapete ci si piace un attimino di più io la trovo splendida con tutto quello che ha indossato devo dire la sincera verità ragazze mi è piaciuto il modo la maniera come dite voi anche essere un attimino più dinamica ma questo avviene quando quando sei un attimino più sicura di se stesse quindi Simo 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 vero? esatto incitiamo Simo 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 French dalla 40 alla 54 se magari mancano delle taglie ragazze perché essendo prodotto magari qualche settimana fa può capitare sicuramente l'abito è arrivato oggi quindi dalla 40 alla 54 in tre colori cioè una fantasia e due unite e adesso fate pazienza lo tengo ancora su e giù così fate vedete cioè questa la culissa è tutta diciamo scesa e questa è arricciata volendo la possiamo arricciare ancora un po' e portarla anche un pochino più corta abbiamo Cinzia che scrive Gabri stai benissimo e Ivana che dice dovreste vendere anche le scarpe le hai sempre stupende quelle pensate che sono oramai vintage sono vintage come la vostra Gabri forse anche io di più sono più vintage però mi seguono ho detto che faccio questo lavoro da 37 anni amica mia ed è vero sono partita quasi anzi totalmente inesperta ho lavorato per un'azienda molto seria qui della bassa Bresciana dopo 4 anni è tanta la storia che mi che mi precede ho acquistato il negozio per cui in cui lavoravo e poi lì sono cominciate le peripezie quante acqua passa sotto i ponti per arrivare ad oggi e aver creato questa questa meraviglia di famiglia perché questo è siamo una grande famiglia quindi a volte c'è qualche battibecco non credo neanche come si può andare così d'accordo dimmelo neanche in una grande e bella e vera famiglia comunque ragazze cerchiamo di accontentarvi tutte cerchiamo di fare del nostro meglio io vi propongo le cose in cui credo e credetemi provate con anche con poco con una maglia con un pantalone tanto possiamo accontentare tutte le taglie tutti i gusti fate voi provatemi e poi fatemi sapere questo abito questo che indosso è un abito a tutti gli effetti adesso lo sistemo lo chiudo tanti di voi lo conoscono dai ho mangiato in questi due giorni ma non sono nemmeno aumentata forse appena appena va bene poco importa questo credo che sia una 40 veste molto bene in crepe cos'è? è un tessuto super elasticizzato in jersey all'interno e questo tessuto meraviglioso esternamente bellissimo questo colore che colore c'è? orchidea bellissimo questo colore nero bianco mi dimentico c'era ciclamino che è un po' più scuro c'era ciclamino ma credo che ne è rimasto uno solo quindi ragazze quando avete delle richieste anche solo delle domande delle info scrivete su whatsapp i numeri li trovate lì bellissimo 99 euro e questo quando voi lo avete fate sia da abito che da copri tutto ditemi voi sopra questo abito se non è una meraviglia quindi sono due abiti quelli che indosso ok questo è il classico romantò bellissimo super 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 femminile e questo sotto 79 euro in maglina in jersey di maglina fantastico mi mi fate niente stavo leggendo i messaggini abbiamo la nostra petalina che scrive ciao bellissime amiche mie quanto mi sono sentita bella vestita con i vostri capi stamattina eh sì ci hai anche adesso sono arrivate ci hai girate le foto ci fai girare la pezza con tutte queste foto foto video eh io chiedo eh quando ha chiestato qualcosa e volete girarmi le foto so che lo sapete fatelo immediatamente fatelo intanto che abbiamo gli articoli in casa perché quella è tu le oggi con il nostro giacchino con le borche sei fantastica ma metterla e poi tutte le nostre amiche si identificano in te dicono ma che bello questo compiletto lo voglio e non avere più la possibilità di darlo anche questo Petalina è il tuo stile perché qui rimane comunque morbido hai capito cioè guarda cioè non segna una meraviglia come vi dice la vostra Silvana scrive complimenti supermodella incanta tutti grazie gioia grazie grazie un'incantatrice di che cosa niente metto a frutto come vi dicevo prima la mia esperienza poi come vi dico sempre guardate che i difetti li abbiamo un po' tutte cioè anch'io mi trovo il mio ni e poi basta basta portare le cose giuste basta mettere appunto il body sotto che fa un po' la silhouette e soprattutto basta sentirsi bene quando si indossa un capo allora allora ragazze oggi mi sento femmina mi sento femminile giusto questo abito mette in risalto tutta la nostra femminità anche se pensiamo di portarlo nella taglia 54 ok poi volete mettere qualcosa di nero sopra volete mettere un gilet abbiamo ancora il gilet verde aspettate un attimo scusate stavo facendo vedere questo abbiamo ancora perché sono mancata un giorno abbiamo ancora questo certo che lo abbiamo ancora quindi vogliamo pensare a chi di voi lo ha preso ma abbiamo solo tagli piccoli vero eh ragazze 30 euro avessimo l'assortimento ve lo daremo a 79 euro come era il suo prezzo ma pensiamo di abbinarlo qui che devo aver acquistato l'anno precedente o a 30 euro in questa stagione che lo stiamo proponendo ne abbiamo ancora pochissimi pezzi 30 euro scontato ci mettiamo sotto questo abito scatta nera cioè quello che volete 30 euro questo io sto indossando la taglia 40 quindi vedete che va benissimo Antonellina vieni me con fior di loto vieni su questa diretta Simo la vuoi avvisare? avvisala avvertila di che la cicillina sua è in diretta e si sente magnificamente bene con questo abito dille di guardarmi quanto mi sento bene quanto mi sento femminile ragazzi lasciatemi fare qualcosa io non mi vanto però mi sento bene con questo abito tanto so già tutte quelle che mi scrivono dall'altra parte che lo aspettavano intanto questo ed è l'ultimo che abbiamo Kate esatto è un maxi maglia mini abito 40 42 44 stupendo e meraviglioso a sole 49 euro è un jersey con tutta la paillette quindi ve lo propongo perché mi piaceva l'idea di accostarlo a questi colori quindi 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 fate le vostre scelte tra le altre cose io trovo che non ci stia assolutamente male portato insieme anche questo rosa antico ditemelo voi è una meraviglia non so che taglio ho indossato ve lo dico subito ma questa è una 44 infatti lo sento un po' grandino posso mettere una 40 alla 42 a seconda ma vedete che le nostre spalline sono sempre abbastanza piccole e come dico sempre potete abbinare anche una taglia in più della vostra che sta sempre bene dimmi Cate Cinzia aspetto di dimagrire un po' e poi mi butto bacia tutte siete splendide e Gabriele bravissima credo di sapere che Cinzia è la nostra Cinzia si vabbè comunque aspettare di dimagrire questo abito non so che taglia hai comunque stando accostandoti alla tua taglia alla fine lo si può anche spezzare con una cintura è una mallina puoi prendere magari in previsione già una taglia in meno vi dico sempre ragazze non pensiate di trovare gli articoli poi in eternità cioè adesso io non so quanto assortimento abbiamo giù quanto tessuto era disponibile e quanti pezzi sono stati prodotti per taglia so che dalla 40 alla 54 li abbiamo ma non pensate perché per dimagrire immagino che un po' di tempo ci voglia se vuoi provare magari una casacca un pantalone qualsiasi cosa fallo comunque altrimenti seguimi e poi quando ti verrà un certo languorino cara Cinzia ti farai sentire dove su whatsapp e la taglia dell'abito questo è il segno nuovo questo è il ventaglio quando mi fai il ventaglio devo dire le taglie le ho appena dette dalla 40 si vede che Silvana è appena entrata alla 54 io indosso la 42 qui c'è la 40 che ho abbinato addirittura sotto al gilet scontato a 30 euro l'ho appena tolto poi magari ragazze nel dubbio andate un attimino a vedere anche il video quando resta lì indifferita partite dall'inizio ed arrivate così alla fine fate i vostri spezzoni fate i vostri screenshot cioè le foto del fermo immagine e poi scrivete su whatsapp dalla 40 come dicevo 42 per passare alla 44 46 48 50 52 54 ok idem per questo giacchino dalla 40 alla 54 vedo che stai guardando sì Elena chiede buon pomeriggio posso vedere cos'è quella meraviglia verde dietro Gabri quindi quella meraviglia verde abbiamo tante meraviglie verde dietro Gabri dovete essere più meraviglia verde dietro Gabri potrebbe essere la nostra maglia che è una meraviglia a 59 euro dalla 40 alla 54 potrebbe mancare una taglia centrale una due non lo so non possiamo avere le giacenze di magazzino in testa però insomma chiedete questa è meraviglia sì fino a taglia che poi Simone indossava la 52 la 54 ieri di questa 54 una meraviglia perché stava morbida io vi dico che di questa casacca ma davvero se io ve la indosso posso portare anche una 48 perché non ha il taglio manica vedete che è scesa così ha il rimborso posso solo dire la tengo più lunga più corta ma a me piacciono molto le cose anche portate morbide quindi se la volete nella sua unicità che arrivi giusta con il rimborso in vita questa diversamente potete prendere anche una due tre taglie in più è arrivata Antonellina eccola qui Antonellina è arrivato il cuore è faticata e mi ha fatto così ma non capivo se avevo una palpitazione non è arrivato il cuore il nostro Made in Brescia questa era quella che indossava Simona nel video con la nostra Antonellina perché ti abbiamo mandato a chiamare Antonellina ciao Antonellina perché qui c'è anche l'abito facciamolo vedere alla nostra amica che magari sono appena arrivate magari questo lo indosso al prossimo giro ragazzi credo di averlo indossato ma in un'altra fantasia esatto è molto molto bello ha sotto l'abito sotto veste con questa manica stupenda con queste balze 99 euro è un abito praticamente doppiato pensa che qualcuno se volesse usare il sotto di quello per metterlo sotto a questo che non serve perché non si apre però lo potete anche fare quindi alla nostra amica spero di aver risposto quando ho chiesto quanto cos'è di meraviglia anche questa pochetta 39 euro mi sembra che costi sì 39 euro stupenda tra le altre cose cos'ha vedete non tira i fili e questo è importantissimo da considerare quando c'è qualche paillet c'è qualcosa Antonellina ti abbiamo chiamato perché le nostre amiche stanno esaltando me e questo abito insieme quindi abbiamo detto chiamiamola la nostra Antonella a rapporto gli facciamo leggere tutto quello che state dicendo su questo abito in cui ho creduto tanto bella la fantasia poi vi svelo i due colori in tinta unita e in questo momento direte perché perché su giù perché voglio far vedere che c'è l'arriccio quindi la manica più corta e l'altra voglio dire portata tutta scesa credo che le nostre amiche stiano apprezzando da questa parte vero? sì ma apprezzano molto Antonellina all'abito quindi ci tenevo visto che ho spinto un po' e abbiamo creduto in questa fantasia lo stanno apprezzando possiamo dirlo? e come? quando io dico che mi sento femmina con questo abito io mi sento femmina magari Antonellina si sente più femmina con un pantalone a sigaretta e una giacca anch'io potete vedere tutto ciò nei video indifferite in precedenza dove? sul canale YouTube sul sito gabriessiabbigliamentodonna.com sulla pagina di Facebook sui rail di Instagram insomma ci trovate ovunque e in ogni luogo ma bisogna dare atto che quando il nostro Made in Brescia si mette la mano sul cuore uno a fare questi sconti 30 euro in questo gilet che è incredibile ma si mette una mano sul cuore ta-ta-ta-ta-ta-ta e quando fa questi articolini guardate ragazzi che non è facile variare da un basico da un classico a un altro classico quindi ci chiedevamo se arrivavano anche i top smanicati quelli che per noi sono un best seller di questo genere penso di sì ho svelato che cosa? il gilet vabbè ragazzi poi non è che posso non vi svelo cosa arriverà a fine settimana dimmi allora c'è Fabio che ci saluta ciao Fabio il nostro amico per eccellenza poi c'è Cinze che scrive ciao bimbe belle sì è vero sei mancata lunedì fai bene a prendere i tuoi spazi fa bene al corpo e alla mente poi che dire Simona è diventata bravissima quindi approfitta Gabri ecco infatti quando sento dire ebbè tanto non mi manca va bene rifacciamolo quindi se sto qui domino dall'alto quindi meglio che io me ne vada e vedo che i miei topolini quando il gatto non c'è i topolini ballano e ballano bene quindi poi grazie a voi che siete subito sempre stupendissime con loro e grazie a Nosa Antonella che ti ho già ringraziata Anto che sei anche tu quando arrivi e poi spieghi nel dettaglio tutte le cosette eh beh voglio dire io magari faccio la parte più venditrice eh e poi abbiamo due cose diverse siamo due sorelle sorelle diverse si può dire certo ci sono i gemelli diversi noi siamo due sorelle diverse no non siamo sorelle mi piacerebbe tanto avere una sorella come Antonella eh io mora lei bionda però dai ci ci vogliamo bene ci appoggiamo e questa è tanta roba ragazzi questa questa maglia è stupenda è infilato bellissimo che io non vi ho mai nemmeno indossato da usare da sotto giacca a 30 euro ne abbiamo in più colori 40 42 44 massimo perché l'ho messa qui perché stava bene portata anche sotto il tailleur che io oggi ho la giacca sopra così in crepe credo che questa crepe la utilizziamo di mianto sì e no 9 mesi all'anno 10 mesi all'anno magari la lasciamo solo luglio e agosto e poi l'abbiamo sempre in mano vero o no Cate è vero è magica questa crepe è magica questa è una giacca tra le altre cose devo che aveva anche lo stilo allora credo mi dice Ale che abbiamo ancora qualcosa in assortimento a me è un po' grandina indosso la 44 considerate che di questa metto o la 40 o la 42 però quando vi dico che indosso un po' tutte le taglie guardala qua sto indossando una 44 e va benissimo anche questa per dirvi cosa che se l'avete nell'armadio o se invece la volete acquistare su questo abito ci sta bene tutto sì o no Cate sì 99 euro la giacca dalla 40 alla 54 ovviamente è in 5 o 6 colori addirittura potete vederli sui video precedenti diversamente scrivete al suo chat e chiedete i colori allora Marinella pacco arrivato la misura è perfetta ho fatto vedere alle mie amiche e mi hanno detto tutte che è bellissimo grazie per la gentilezza al prossimo ordine un bacione dal Gargano Marinella Marinella tua Marinella sua può essere mia ma comunque anche se fosse di Simone è uguale lo stesso esattamente ci mettiamo lo stesso sei e siete nostre quando noi diciamo mia è una maniera di situare quindi misure perfette l'importante è che voi prendiate le misure perfette e visto che ho questo abito potrei anche dire che quasi quasi vi faccio vedere come si fa a prendere le misure questo è un pantalone in crepe abbiamo ancora qualcosa in questo bellissimo pervinca perché l'ho abbinato perché mi piaceva l'idea di farvi vedere visto anche questo viola lo richiamo oh mamma va dentro grazie mi hai fatto sovventare Simona sono tutte le nostre amiche qui abbiamo la gonna pantalone è intenta sta facendo le spese la gonna pantalone che è meravigliosa che si può mettere sotto la giacca questa questa abbiamo la giacca corta la giacca sette ottavi abbiamo che cosa l'abito rodmantò che volendo anche quello lo si abbina e ve l'ho fatto vedere prima nel Lilla questa è la gonna pantalone che è meravigliosa quindi un pantalone dinamico largo da portare con le giniche da portare con delle tisce da portare con tutte le nostre maglie che adesso ho messo qui da spezzare questi ragazzi però sono pochissimi qualcosa c'è in giacenza sì poco poco uno il taglio abbiamo noi 40, 42, 46, 52, 54 questo è il gilet con il pantapareo che indossava la Simona e anche lì vi ringrazio perché siete state meravigliose con le nostre foto del battesimo della nostra Ginny la Simo indossava esattamente questo in questa taglia indossava questo pantapareo con una camicia bianca e questo gilet quindi vedete che volendo anche questo gilet si potrebbe portare sopra questo abito giusto per stramatizzarlo però ragazze tutti i capi a 59 euro come il pantalone a sigaretta adesso tolgo la giacca bianca anche qui le giacche ne abbiamo non tantissime però Kate di queste giacche in pervinca la nostra Antonellina cosa ha detto? niente al momento non vedi nessun messaggio? no magari ha commentato e tu non lo vedi può darsi perché se è arrivata immagino che sia arrivata ha scritto ciao a tutte perché tutte la salutavano ecco allora è venuta a seguire esatto allora vedete guardate chi di voi ha preso questa è una giacca taglia 40 l'avevamo dalla 40 alla 54 io in casa ho 40 44 e 52 poi ragazze possiamo chiedere al nostro Medin Brescia ripeto non posso avere tutte le giacenze del deposito però vedete come sta bene questo abito portato con questo pervinca vi sto mostrando più varianti vi ho fatto vedere il bianco vi ho fatto vedere il verde Tiffany vi ho fatto vedere il lilla vi sto facendo vedere il pervinca vedete quindi se voi avete già fatto acquisti e volete completarlo con un abitino così fatelo a 79 euro dalla 40 alla 54 e per dire che è di facile di facile di facilissimo abbinamento poi adesso vi svelo i due colori ma volevo visto che tendenzialmente siamo un po' su questi colori qui nello stand la nostra tuta bianca nera questa l'avete vista indossata a Simona fino alla taglia 54 le stava divinamente bene io avrei voglia di indossarla bianca perché mi piace da morire però l'abbiamo rosa l'abbiamo bianca l'abbiamo rossa o no no rossa no abbiamo l'abito palloncino verde verde allora resettiamo bianca nera verde azzurra e rosa e blu e blu sei colori ragazze ci vuole cioè tanta roba è ricordarsi tutto dalla 40 alla 54 89 euro questa tuta in bengalina e soprattutto abbiamo le giacche da girare pirlare ribaltare come più vi aggrada bene questo abito che la manica è questa e se la portate arricciata diventa così anche un pochino più cortina potrebbe mancare nero no 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 un abito così non può mancare nero è proprio una 40 vera brava Antonella ti ho chiesto di stringerlo e l'hai stretto quindi 40 alla 54 dalla 40 alla 54 quindi il colore è nero non posso farmelo mancare non avevo dubbi esci una sera ti dici voglio stare bene voglio stare seduta voglio muovermi cioè ragazze un abito così bisogna fare tutti e tre perché anche quell'altro colore non è da poco svegliamolo sì 79 euro dalla 40 no no 69 79 ah ascolta cioè adesso ma dai non posso guidarti in diretta però ero quasi quasi lì sono ragazze non posso credere è vero la fantasia è sempre 10 euro in più 69 euro ma dai ma 69 euro è il prezzo di una maglia hmm grabbia cioè non mi ricordavo più questo scarto cifra 79 euro perché come diceva la nostra Gabri vero come tutte le maglie come tutte le canotte come tutte le cose la fantasia perché la fantasia parte da una base vedete neutra e poi vedo Antonellina che ho imparato bene e poi viene stampata la fantasia sopra quindi questa è tutta una procedura di lavorazione che incide e non tenta guardare la taglia è una meraviglia dalla 40 alla 54 poi ve li faccio vedere fino alla 54 Antonellina dice confermo per la crepe e preparatevi per l'autunno in arrivo nuove proposte di tessuti base in uno stretch favoloso grazie Anto sì perché non ci sono tante alternative alla crepe in stretch c'è la bengalina ma la bengalina va bene c'è anche la bengalina invernale sicuramente sì quindi oltre alla crepe oltre alla bengalina avremo un altro tessuto elasticizzato esatto tonico colori non ci dice nulla ovvio cominciamo e poi aggiunge questo abito mi piace tanto nel rosso e tu mi sa che li prenderai tutti e tre eccola là pacchetta hai già svelato un altro colore che io stavo mantenendo ma stavo arrivando sì è vero io li prendo rimane scritto rimane scritto no no ormai l'ho svelato eravamo arrivati al punto giusto dai l'hai letto un secondo prima che io lo mostrassi sì ragazze 40 40 42 quello che indosso perché mi piaceva tenerlo giusto quel morbido tanto è sinuoso dai anto hai visto le nostre amiche adesso l'hanno già detto cosa pensano di questo abito facciamo vedere anche indossato la scollatura che è la scollatura posteriore che è meravigliosa quindi anche se vi raccogliete i capelli anche se mettete il body sotto il reggiseno non si vede perché l'abbiamo ridotta io sono soddisfattiva bellissima di aver messo in produzione questo abito pac e cosa vogliamo dire ditemelo voi del rosso e del nero hai proprio ragione Antonella ho detto nero non posso lasciarlo nell'armadio ma rosso vogliamo parlarne tubino rosso così sta bene alle bionde sta bene alle more e tra le altre cose sta bene a tutte perché questo arriccio qui facciamolo vedere nel rosso che si vede di più questo è quello che porta a snellire a coprire quello che è il punto vedete quanto è morbido ma lo vedete e più lo tengo indosso e più diventa morbido con l'apertura che poi rimane completamente chiusa bella e raffinatissima la lunghezza ma scusate ma 69 euro questi due abiti 69 69 mannaggia tanta roba sono rimasta senza parole infatti dicevo ma scusami avevo detto 79 perché la fantasia costa sempre 10 euro di più quindi vabbè ma ragazzi è vero che le maglie a canotta quando arrivano le maglie in tinta unita possono costare queste con l'incrocio 40 anzi costano 49 euro quindi l'abito con tutta questa ci stanno due maglie qui dentro mamma mia mamma mia questi prezzi non sono da vedere regalati regalati nel nostro giacchino che adesso indosso in ecopelle magico non volete portare una giacca in crepe non volete portare una giacca in bengalina portiamo un qualcosa in ecopelle che è bellissimo sempre in questo caso lo abbiamo nero rosa ve l'ho fatto vedere pochi pezzi nel rosso che è un rosso leggermente diverso ma ci sta benissimo ugualmente so già che manca ma lo sapete anche voi la 48 la 50 forse magari anche qualche altra taglia non lo sappiamo ma guardate come sta bene portato anche così se non ero anche Simone l'ha indossato nel video precedente ma era 54 perché io vi osservo da lontano eh quindi che dire 119 euro il giacchino 79 euro l'abito e femminilità all'ennesima potenza poi quando voi lo gestite in maniera diversa lo mettete con un cardigan nella stagione più avanzata lo portate perché no anche con un biker questo abito si trasforma in base all'abbinamento che voi fate all'outfit che voi vi create ok quindi anche questi giacchini non so se lo messo nella taglia più alta ma poco importa c'è dalla 40 alla 54 rivedetevi pian piano tutti i video e poi pian pianino eh prendetevi le misure che dopo vi faccio vedere vedo che stai guardando 10 alle 3 ah già ma siamo partite le due in pacca e non so mamma mia ma come vuole il tempo ragazze io lo so mi alimento con voi cosa vi devo dire cioè inutile vabbè dai corriamo 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 pantalone sigaretta in bengalina rosso la nostra casacca meravigliosa che avete indossato a me credo anche alle ragazze lunedì quindi non so chi l'ha indossata se la Anto se la Simona però poco importa 69 euro 59 euro il calzone abbiamo anche il calzone che ovviamente l'ho fatto anche rosso sbragato stupendo meraviglioso di questo porto indosso la 42 e sono le varie alternative perché rosso perché portandolo vicino all'abito che vi ho fatto vedere portandolo col giacchino portandolo con la giacca bianca portatelo come volete abbiamo anche vedete dove vuoi correre? ma dai sdoppia lo vuoi fare come andava messo sdoppia lo vuoi vedere ma dai quanto sei bella cosa indossi? 52 52 e sta così morbido ma dai 54 me l'avevi fregata te ah ma si ma va benissimo va benissimo ma dai è solo qui con il biker ma volta patata adesso cosa ne dite? e ha indossato il rosso cioè non il nero ce lo stai facendo tanta roba tanta roba sì tanta roba sì fai vedere anche a questo punto io ho messo le mie giacche giusto ah prendi questo fai il total red vai ma come stai bene tu hai lasciato la manica leggermente ma tra le altre cose morbidissima e si può scendere si a lei vedete che è un pochino più corta perché poi la gestite voi come volete bello anche questo aspetta che ecco si c'è la cinturina se volete fare il total red Simona potresti perché non vai a casa vestita così è sotto il body nemmeno sì è sotto il body ah stai portando il body ah bene 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 qui c'è l'arriccio quindi non tirarlo giù tutto l'arriccio che c'è sul fianco lo utilizziamo per questa e poi sappiate che questo jersey quando lo si porta diventa sempre più morbido io sento l'abito vedete che si sta ammorbidendo sempre di più potrei portare anche la 40 di questo abito più inciucciato ma per il dietro che è lineare mi piace portato così dai fai un giretto arriva tutti i complimenti anche nonostante nell'inale in Brescia ma dai davvero sei divina nel rosso questo trench ma che bella sei nel rosso more ah 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 camia i occhi quindi abbiamo nero rosso e in fantasia che anche questo portato con il biker sta benissimo come vi dicevo cioè non è che dovete portare il taco con questo abito è l'imparata mi fate una bella sorpresa stavo facendo vedere la merengalina bianca me ne vado però te ne vai toglilo un attimo me ne vado stavo mostrando allora il trench lo abbiamo nella taglia 54 sia nero sia rosso che bianco si se vuoi far vedere un secondino anche questa giacca 7 ottave di sopra io l'avevo presa a completo quindi ragazze gonna palloncino camicia sigaretta sbragato chiedete di tutto di più che abbiamo in tutti i colori come vanno aspetta un secondo aspetta un secondo che c'è la martingala dietro ecco da girare bellissima anche portata col bianco vedete questa giacca appunto milano che è morbidissima leggerissima chi più ne apri non è che stai ferma lì che vado a prendere uno dei nostri uno delle nostre storie come se potessi scappare ferma lì ferma lì con questo discorso qua a fine volevamo correre ma se poi ci invitiamo anche due guardate basta un semplice full art per fare un abbinamento se stai qua con un attimo ti infine no 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 me ne vado ciao prima si spogli e poi te ne vai lascia giù la giacca trencia guardate qua 54 ce n'è solo uno poi abbiamo la serie dalla 40 alla 54 nero bianco ciao e rosso avete visto anche ciao vai che ti vai a leggere i complimenti vai di là a leggere i complimenti così vedrai vedete come sta questo abito indossato benissimo stavo dicendo boh stavo dicendo qualcosa ma qui ragazzi a tenere botta insomma punto Milano taglia 54 119 euro la giacca e 59 euro i calzoni che poi ci riarriviamo questa 42 44 46 perché veste anche molto bene 39 euro la vogliamo prendere e abbinare un po' sopra ci sono le due varianti perché perché il completo che diciamo così la giacca che ha indossato Simona abbiamo ancora un bel assortimento nel nero anche ok quindi pantalone sigaretta pantalone palazzo che poi lo vedete nel bianco e giacca a questo punto la indosso io perché questo abito fortuna che pensavo di fare presto io ma non è che mi sono cioè dilungata a fare che cosa ma ragazzi è proprio vero che è con voi dai andiamo ancora bene taglia 40 questa giacca capere no 42 perché in questo indosso la 42 potrei indossare anche la 40 questa è perfetta vogliamo farla vedere con la martingana bellissimo ti piace l'abito Doni stupendo eh spaccheremo con questo abito c'è anche rosso e c'è anche nero 69 euro rosso e nero e 79 euro questo bello eh è un abito da femmina questo si femminilità l'ennesima potenza giacca c'è anche il suo pantalone e sigaretta possiamo mettere sotto la t-shirt possiamo mettere sotto che cosa questa maglia stupenda adesso corro adesso bla 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 questa che è una meraviglia che questa forse non me la sono fatta ma peccato manica svasatina fori sulle spalle scollata a V a 59 euro considerate che c'è tutto dalla 40 alla 54 chiedete questa bellissima che Antonellina l'aveva indossata rosa l'ho vista ieri e tante di voi ho detto ho fatto bene perché questa non l'avevo vista sì voi fate anche questo perché a volte insomma è normale ci si perde dei passaggi no quindi pantalone trombetta in bengalina 59 euro meraviglioso con il bottoncino sul fondo è un'alternativa non mettete questa casacca con la crepe perché attira i fili ve lo dico subito ma portatelo con tutto il resto pantalone a sigaretta guardate che bello che meraviglia che è grazie Kate per le riprese 69 euro 59 euro i calzoni e qui c'è la sua giacca che adesso l'avete vista in tutte le salse portata in tutte le maniere in tutte le taglie dalla 40 alla 54 bianca quindi facciamo un total white oppure 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 stacchiamo con questa casacca meravigliosa la mettiamo col bianco la mettiamo col nero la mettiamo col beige la mettiamo con quello che vogliamo pian pianino vi indosseremo tutto ok 69 euro una meraviglia dalla 40 alla 54 poi qui che cosa ho messo giusto per farvi vedere questa e questa guardate così oggi ve le mostro tutte nei suoi nei colori che abbiamo creato questa è quella è il modello come quella con le farfalle la possiamo portare scesa di spalle oppure così quindi fate il vostro gioco veste molto 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 bene Kat è vero esatto qui anche un 130 di seno siamo d'accordo sì quindi bianca e 130 di seno è tanta roba scusate se mi permetto di dirlo come si può definire pesca bellissimo corallo e nera questo fiocchetto lo si può togliere non serve è comunque infilato in un passante che è andata a togliere voi è una meraviglia quindi la possiamo mettere col taior bianco la possiamo mettere con tutto quello che volete ragazze è tutto abbiamo anche il taior in bengalina nero io credo il taior in bengalina nero non l'ho ancora indossato non possiamo indossare tutto giacca c'è 99 euro pantalone a trombetta pantalone a sigaretta in bengalina e guardate qua con queste tre maglie da girarci intorno a 59 euro dobbiamo dirlo perché all'unito sapete che porta sempre un filino in meno però bello vederle così a vista così l'occhio colpisce il colore abbiamo ancora una canotta bellissima con questa luminosità prezzo là Outlet 39 euro che è una delizia guardate questa è una taglia 40-42 ok quindi 39 euro è regalata il giacchino rosso giusto per farvelo vedere da tirare su tutto quello che vi abbiamo fatto vedere finora dalla 40 alla 54 mancano delle taglie centrali poi me lo direte la nostra casacca con le farfalle che abbiamo ci manca la 44 e la 46 poi dalla 40 alla 54 credo di averla ancora mimicate Silvana scrive vorrei scusarmi con Gabri per l'avere detto delle parole non carine in effetti sei una persona speciale non so Silvana cosa mi avevi detto Gioia facciamo che non ti ho letta magari nella diretta non so dall'altra volta ma si guarda io vai a vedere il post che ho messo ieri dove mi sono un po' rivelata e ed è scritta e tante di voi mi sono scende fuori comunque ho esagerato col cibo non lo so ed è scritta sono quello che sono sono quello che leggi lì posso piacere posso non piacere magari non piaccio oggi piaccio domani ecco vedi e tu ne sei un esempio io ti ringrazio di averlo detto davanti a tutti non so cosa mi avevi detto spero che non lo pensi più di me perché insomma essere qui fare questo lavoro e crederci fermamente non è proprio così capite diciamo che essere esposta si può trovare di tutto e soprattutto quello che dico sempre le persone diamogli modo di essere conosciute prima di criticare perché le critiche non sono mai belle poi criticare e dire questo mi piace questo non mi piace ovviamente è indiscutibile ma io posso dire questa cosa mi piace questa persona mi piace la vicino questa persona la lascio lì perché mi piace meno d'accordo quindi libera scelta ti ringrazio per averlo detto in diretta non voglio sapere cosa avevi detto di me non lo voglio sapere comunque ragazze intanto indosso la giacca a doppio collo che vi ho fatto vedere prima bianca nel nero cosa dite? a volte sembro sembro non è che mi gaso non è che voglio fare quella che è sopra agli altri però se mi sento sono qui a fare questo lavoro e se mi sento bene con un capo lo dimostro dopodiché ragazze sappiate che i difetti li abbiamo tutte pantalone a sigaretta questo è in crepe e quindi abbinabile alla giacca quindi diventa un taglio stupendo che vi ho fatto vedere finora con tutte le nostre maglie tutte le nostre casacche ma anche con questa maglia stupenda l'unica Doni l'ho tirata fuori di nuovo da quella che ha il blu perché si confonde questa è il bordo nero ed ha una taglia 46 46 48 secondo di come la volete portare ok anche una 44 se la volete portare morbida non è che io vi voglio far acquistare le cose e dire tanto le portate no ma come faccio io porto una taglia ne porto un'altra insomma ragazze queste sono le altre due casacche che c'è anche no sono bianche e nere giusto c'era una fantasia che forse viene a scappeggiare quella col corallo sì ma ce n'è una sola anche corallo sì non l'ho messa bene allora dammela è scappata è scappata quindi come quella precedente che è la fantasia che è diciamo il modello di quella con le farfalle abbiamo quest'altra manichina al gomito con i fori laterali un pochino più lunghetta vedete che abbiamo modelli per tutte e per tutte le esigenze prezzo 59 euro la fantasia 69 dalla 40 alla 54 la nostra camicia ce n'era non posso non farla vedere perché volendo potrei Doni me la apri gentilmente che poi la faccio vedere su questo abito scusate quale in cotone 69 euro meravigliosa questa sempre 69 euro 42, 44, 46 con questo gioco meraviglioso di strass al collo 69 euro questa è una taglia unica ma è in cotone bellissima e meravigliosa come non far vedere qualche pezzo di questa casacca che è quella che si apre sul davanti si può anche annodare 40, 42, 44 non ricordo chiedete se vi piace e se vi interessa è bellissima indossata questa in tessuto manopesca 59 euro il nostro completo due pezzi cardigan e gonna in maglia di viscosa anche questo bellissimo se poi volete prendere il cardigan e indossarlo su questo bellissimo abito che indosso dalla 40 alla 54 a 79 euro in fantasia fatelo grazie questa è la camicia invece che io ho indossato credo bianca l'abbiamo blu l'abbiamo perché non mi ricordo rosa perché aveva staccato un giorno mi ha fatto il vuoto no assolutamente no questa è una camicia in cotone che se la sapete lavare sapientemente quindi toglierla immediatamente dal cestello e poi appenderla forse forse non si può neanche si può anche fare a meno di stirare cotone elasticizzato ricordatevi che i capi neri è meglio lavarli con i detersivi per i capi neri giusto per capirci la portate chiusa questa è una 42 guardate quanto è bella la il dislivello eh diciamo che si usa tanto tessuto per questa camicia perché ha questo cono tagliato in in sbieco che dà questo questo effetto particolarissimo e bellissimo 69 euro dalla 40 alla 54 per dirvi che poi quando avete una cosa così la utilizzate sopra a tutto facciamo vedere i due abiti che sono meravigliosi li vedete indossati a me anche questo mi piaceva tanto indossato questo forse non l'ho ancora indossato dalla 40 alla 54 nella stessa viscosa di quello che indosso sono due abiti diversi 79 euro anche questi come quello che indosso dalla 40 alla 54 bella la fantasia con le catene e le gemme bello il QA che poi non ingrossa ragazzi arriviamo a questo punto sì ho voluto mettere gli altri due abiti ma adesso l'avete visto indossato a Simona quindi cosa abbiamo questo taglia 54 nero taglia 54 e rosso taglia 54 69 euro questi e 79 euro questi quindi pensate ad avere un capo così che poi vedete che ho messo anche i trench potete elaborarli fare quello che volete vi ho dimostrato che potete metterlo sotto a dove sotto al giubbino in ecopelle per dire bianco rosso nero rosa come quello che vi ho fatto vedere dalla 40 al 54 119 euro bellissimo o se volete magari metterci sopra un giubbino così a quello nero perché no un giubbino un gilet scusate a 129 euro meraviglioso è un jeans tessuto fermo da portare un po' soprattutto taglia 50 52 54 mettete sotto l'abito nero mettete questo mettete un biker spaccate ragazze nel vero senso della parola fermiamoci qui che abbiamo ancora una 52 e una taglia di questa camicia in jersey meravigliosa che potete utilizzarla anche come giacca 42 42 e 52 si vede che il 42 è arrivato così per il rotto della cuffia perché non l'avevamo più quindi 69 euro e anche questa ragazze volete metterla sopra all'abito nero portata aperta a modigiacca fatelo 69 euro l'ultima che è rimasta credo vero che non ci sono più capi penso dimmi capi Nicoletta ha scritto un messaggino carino Antonella ha scritto Antonella tesoro bella tengo i tuoi capi come preziosi ne ho tantissimi li indosso sempre sono sempre un top un abbraccio sei nel mio cuore ecco magari l'ha commentato su atto si conoscevano si conoscevano in precedenza perché insomma bisogna dire che l'esperienza che ha il nostro Made in Brescia che è la famiglia che produce per noi e non solo per noi perché voglio dire hanno tanti clienti da tempo hanno uno storico un passato dove la sua clientela adesso magari giova il fatto che segue magari i suoi capi anche guardando attraverso noi ma sicuramente chissà quante storie anche loro hanno da ricordare queste maglie ragazze sono quelle con il buco sulle spalle che vi ho fatto vedere prima in fantasia col pua c'è nera e c'è anche bianca e poi c'è anche altri colori però chiedete in questo caso 59 euro e ci tenevo a fare 49 euro scusate ecco qui che così vedete la proporzione perché ve la sto mostrando perché sarebbe molto bene arrivocate con la gonna palloncino nera e poi qui abbiamo anche la giacca sopra qui abbiamo tutti in mano proprio tangibile le taglie 54 ragazze i nostri top con l'incrocio bianco nero corallo cosa ne dite sono i colori che vi abbiamo appena fatto vedere anche delle casacche a 59 euro e del pantalone sbragato cosa vogliamo dirne fino alla taglia 54 e qui in carne ed ossa possiamo fare davvero tutto quello che più ci aggrada questo calzone è meraviglioso veste più piccolo ed è molto più leggero di quello dell'anno scorso perché è un'altra bengalina ma quando l'avete indosso ragazze ovvio dalla 40 alla 54 dimmi Caterra Raffaella chiedeva se per cortesia un foulard sopra quell'abito cosa metteresti? ah dovrei andare a cercarlo provi a vedere tu Doni intanto credo di vedere lì quel verde lì nell'angolo sotto potrebbe andare quello che scende lì l'ha già individuato ci starebbe bene anche quello perché no prova a vedere cosa mi trovi intanto che io faccio un composé di quelli che facciamo noi Doni che sei brava anche tu vedi cosa è più cosa è più mirato intanto sì perché abbiamo un sacco di foulard questa meravigliosa è come quella stampa a farfalla anche quello è bello Doni brava credo che l'abbia già individuato la Doni allora casacca dalla 40 alla 54 questa è una 54 69 euro l'abbiamo bianca l'abbiamo con la fantasia che vi ho fatto vedere prima e l'abbiamo con il poire questa l'avete vista indossata a Simona quindi l'avete vista con sotto i leggings è meravigliosa sì grazie facciamo così così facciamo vedere il composé cosa vuol dire e come si fa allora portato con questo abito sicuramente sì darei questo aspetta che la giriamo dove è lucida quindi non dove è l'opaco dal dritto questo è bellissimo portato insieme perché ha il bordo che richiama vedete è ovvio che deve piacere scusate che lo indosso io che facciamo prima come portare una stola come portare un foulard come portare chi che sia cioè questo è un composé ma ci sta perfettamente più le cose sono eccentriche più ci avviciniamo anche a quello che può essere una passarella di moda che sapete che un attimino di eccentricità ci vuole la portiamo così la portiamo a nodata in parte la portiamo come vogliamo la portiamo con i nostri braccialini che vanno praticamente a a bloccare per dire la chiusura adesso volevo allacciarla ma insomma portiamola come come più ci aggrada su giù di qua di là come volete cosa dite se poi prendiamo per dire il trench che stavamo facendo vedere prima o ad esempio anche l'abito a romantò col quale ho poi completato l'opera guardate facendo lo stacco con il lilla e poi mettendoci sotto questo abito quanto sta bene eh doni ci siamo proprio se abbiamo anche quella giusta quindi 20 euro le nostre storie abiti a palloncino che dire bianco rosso è nero l'avete l'ha indossato Simona questo nel blu perfetto sappiate che gli altri colori sono questi brava non mi ricordavo sono 4 colori blu notte meraviglioso 79 euro che dire se non che è una meraviglia in bengalina c'è ragazzi 79 euro facciamo vedere anche le nostre tute giusto per e qui se c'è la nostra marina ma sta di nuovo facendo temporale non lo so allora ragazze diremo la nostra marina di salire e fare una bella carrellata di capi taglia 54 e far vedere alle nostre amiche ci mettiamo in contatto e poi ci mettiamo d'accordo perché le nostre amiche sono arse di taglie morbide eh abbiamo tantissime amiche taglie morbide e pensare di poter portare un capo così dalla 40 alla 54 è tanta roba questa maglia meravigliosa questa 59 euro ragazze taglia morbidosa sì ma si può partire da una 48 in su perché la manica leggermente più aderentina che dire se non che è bellissima questo è il taglio che vi ho mostrato prima che ha provato Simona lo abbiamo turchese azzurro turchese lo abbiamo nero che è stupendo lo possiamo mettere sugli abiti lo abbiamo bianco lo abbiamo verde che altro colore blu è finito blu è finito quindi bianco meraviglioso perché ho abbinato questo discorso perché questo jersey è un punto milano anche questo abbiamo questa maximaglia mini abito che è stupenda bellissima a 49 euro volete metterla con sotto un pantalone a sigaretta fatelo abbiamo ancora il leggings a 30 euro qualche petto che era indossato l'altro ieri Simona perfetto è bellissimo portato anche così quindi 49 euro che dire se no 49 euro ragazzi è una meraviglia taglie morbide ok stessa cosa vale per questa maglia che avendo il fondo nero e c'era anche al contrario e con questo trasversale qui con sotto il pantalone bianco è stupendo vi ricordo anche che i nostri calzoni la maglia scusate costa 49 euro i nostri calzoni hanno tutti l'elastico in vita non si arriccia non fa difetto non segna nulla ma quando lo indossate vi sentite praticamente nude questa è l'altra fantasia scusate perché è sul proprio male 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 questa non so perché ecco praticamente è quella come la stampa con le farfalle vi ho fatto vedere l'unito che c'è corallo bianca e nera e anche questa fantasia meravigliosa la vogliamo mettere col calzone a sigaretta e la giacca facciamolo la vogliamo mettere con il pantalone a palazzo facciamolo è stupenda anche questa abbiamo cose davvero da sbizzarrirci questa ve l'ho già fatta vedere avevo messo la 52 ecco perché non c'era questo colore ma ve l'ho mostrata prima e Dulcis in fundo l'abito che indosso io taglia 54 abbiamo finito? si c'è Marina che dice a disposizione grazie Mari quindi dobbiamo solo sentirci ed accordarci magari anche venerdì devo guardare un po' la mia agenda e vedere poi dammi la tua disponibilità e poi mi fai sapere è inutile dire che abbiamo questi abiti che io non ho ancora indossato perché oggi nell'arrivare questo ragazze eh dovevo assolutamente farvelo vedere questi 99 euro sono deliziosi io so già eh chi dall'altra parte mi avrà mi avrà scritto per questo abito abbiamo tempo per far vedere i manichini si dai giusto perché così poi la donna dopo li rifà allora che dire di questo jeans meraviglioso 49 euro super io non guardate quando non è un tessuto elasticizzato ve lo dico questo elasticizzato dà la vita a tutto quello che è eh diciamo tutto il jeans dalla gamba al fianco la vita molto elastica quindi però arriva fino a una XL quindi un 46 48 46 46 fai la nostra t-shirt meravigliosa guardate la Doni che lei poi è sempre quella dell'accessorio la cinturina a 20 euro la t-shirt credo che sia quella a 25 euro non so se 25 o 29 perché in questo caso il cartellino sarà sotto il nostro torsion sapientemente coordinato cappello a 20 euro i cappelli vero mamma mia ragazze e la giacca ecco questa che è quella in punto Milano portata leggermente vedete ma guarda che bello che è questo coordinato mi piace Doni mi piacciono tutti quelli che hai fatto la borsa bellissima 69 euro in pelle andiamo dall'altra parte sì bellissimo il nostro abito questo a 79 euro guardate la meraviglia com'è questo abito stupendo e meraviglioso con il nostro giubbino con le borchie 69 euro e 79 euro l'abito anche qui lei è diventata un'esperta proprio non saprei quasi farle nemmeno io di questi torsion quanto stanno bene sono fili a proposito devo ricordarmi niente vabbè mi è venuto in mente che devo prendere due fili per un'amica quindi che dire abbinati sapientemente messi a torsion ve ne prendo due a caso facciamo così quindi vedete cosa vuol dire il torsion li prendete sciolti e poi create questo intreccio vedete poi vi diamo i ganci e il tutto avviene come per magia vediamo il gancio da questa parte ecco in questo caso lo abbiamo anche nero è stupendo e meraviglioso guardate qui bellissimo quanto è bello poi sarà voi scegliere cosa fare se portare i scesi se portare messi a torsion comunque dalla 40 alla 54 questo qui abbiamo la nostra gonna a palloncino la nostra maglia quella che può stare e così e scesa vedete che è quella nella stessa diciamo modalità farfalle il nostro giacchino che vestiamo fino a una taglia alta vero 48 50 52 54 in jeans elasticizzato stupendo a non ricordo se è questo 99 scusate che ve lo dico giusto giusto 99 euro e 90 prezzo imposto anche qui camicina 59 euro gonna 59 e il giacchino sopra meraviglioso e questo è completato qui abbiamo il nostro bomber stupendo 69 euro e il nostro sono arrivati nuovi quindi questi calzoni sono appena stati tagliati abbiamo sia il trombetta sia il sigaretta vero Kate e anche lo sbragato quindi abbiamo tre modelli di pantalone in bengalina il top meraviglioso sopra e in questo caso perché no abbiamo messo la giacca che è stupenda il nostro fiore lo possiamo portare coordinato vedete anche portato su questo gioiello vedete poi la potete gestire come volete a me piace molto anche portato così quindi 20 euro la collana 10 euro il fiore guardate che meraviglia anche lì la nostra tutta meravigliosa in bengalina che avete visto indossato da me da Lanto da Simona qualcuno prima siccome ho postato le foto prima del video mi ha già chiesto questo giacchino 48 50 52 54 ho chiesto alla nostra amica di seguirci in diretta 119 no forse ho detto 119 ma è 99 vero? per me è 119 ho sbagliato Kate no per me 119 ho detto giusto ma no perché l'ho detto mentre stavo bevendo una tisana quindi potevo anche sbagliare quindi amori miei che dire se non che è una meraviglia mi aiutate a dirlo bene credo di aver sì sono un'ora e un quarto esatte di video qui sta piovendo a dirotto ma a noi che ce ne può fregare abbiamo i trenci abbiamo le giacche abbiamo i giacchini abbiamo tutto per completare avete detto perché una manica su giù perché o le portiamo tutte e due così ovviamente o le portiamo tutte e due scese adesso facciamo scendere anche questa ok è solo da vedete la lunghezza massima è questa perfetto la vediamo così scesa è bellissima poi possiamo pensare di arricciarla più o meno ti piace Doni e a me tantissimo ragazze vi aspetto dove ah le misure facciamole vedere Kate dai sì perché ci sono troppe amiche nuove troppe guardate scusate ma cosa vogliamo dire Kate ho rubato la la borsa al manichino cosa vogliamo dire se no che è una meraviglia 69 euro scamosciata pelle stupenda meravigliosa vedete che si possono portare con tutti i colori bene allora vediamo un po' attenzione attenzione please madame misurine allora siamo ancora qui eh dai facciamo 93 giusto per farvi vedere bene come vanno prese no 92 in questo caso sono un po' scese 92 93 teniamolo appena 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 morbidino ci mettiamo dentro un dito 93 dai 93 ok quindi portatelo sempre parallelo al davanti ok ragazze mettetevi sempre sotto l'intimo quindi in questo caso il body non prendetele mai le misure senza l'intimo perché cambiano e cambiano tantissimo quindi punto vita si dai si dai dovrebbe essere ancora 77 andiamo 78 cioè lasciamo vedete quella morbidezza quanto basta ci passiamo un dito quindi vita 78 e fianco ci fermiamo dove arriva praticamente la zip di un jeans lo teniamo parallelo dietro vedete e qui è un 97 sono ancora le stesse quindi non sono sicuramente aumentata quindi ragazzi avete visto con queste misure porto una 42 di questo abito potrei mettere sicuramente più inciucciato vedete anche una 40 però è bello anche portato insomma che non segni più di tanto perché insomma questi abiti in jersey poi li si modella a vostro piacere dite magari nella chat se lo preferite più morbido non solo questo se siete per dire una persona che ama le cose un attimino più scivolate sul corpo o un attimino più inciucciate come vi dico sempre io ok gioia bene amori miei qui è notte quindi bisogna andare a fare un riposino no 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 dai su dinamiche dinamiche femminili sempre ragazze grazie per tutto quello che mi avete scritto grazie per credere in me questa è una cosa a cui tengo tanto 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 cercherò di non deluderli mai baci grandi ciao gioie